Che Nissan Qashqai fosse un fenomeno di successo lo sapevamo già, basti pensare che la prima generazione è stata venduta in oltre 2 milioni di unità nel mondo. La vettura giapponese, agile e al tempo stesso robusta, è sempre più proiettata nel futuro. A partire dal 2017 il nuovo Qashqai sarà equipaggiato con la tecnologia Piloted Drive 1.0 che permette ai veicoli di essere condotti autonomamente e in piena sicurezza all'interno di specifici parametri di velocità e in condizioni di traffico autostradale molto congestionato. Il crossover sarà così il primo veicolo della casa automobilistica in Europa ad essere dotato di questa tecnologia. Migliaia di test e la presenza di sensori multipli sul veicolo garantiscono che il sistema preveda tutto ciò che lo circonda. Questo segna un importante passo in avanti verso la guida autonoma accessibile a tutti. Si parla anche di prezzi accessibili, che però almeno per il momento non è ancora dato sapere. Nel corso dei prossimi 4 anni Nissan lancerà veicoli con ulteriori capacità di guida autonoma, come il Multi-Prol Lane Control, attraverso cui l'auto sarà in grado di gestire autonomamente i pericoli e cambiare corsia durante la guida in autostrada. E dentro la fine del decennio introdurrà anche la tecnologia InnerCity, consentendo ai veicoli di affrontare in città gli incroci senza l'intervento del conducente. Insomma, il pioniere dei crossover farà da apropista verso il futuro della mobilità.